Ciao a tutti, in questo video vediamo alcuni esercizi. Il primo esercizio chiede di prendere questa permutazione e scriverne la decomposizione in cicli. Quindi ripassiamo come si fa. Partiamo da un elemento, tipicamente partiamo dal primo a sinistra, quindi dall'1 e vediamo dove va. L'1 va in 4, scrivo 1, 4. Il 4 va in 7, scrivo 7. Il 7 va in 1 e quindi chiudo il ciclo. Il 2 va in 9 e il 9 va in 2, quindi chiudo il ciclo. Il 3 va in 6, il 6 va in 5, il 5 va in 8, l'8 va in 3, chiudo il ciclo. Se io partissi dall'8, scriverei 8 che va in 3, 3 che va in 6, 6 che va in 5, 5 che va in 8 e chiuderei il ciclo. E così via, posso poi prendere l'1 e andare avanti. Prendiamo due matrici appartenenti al gruppo lineare, quindi sono matrici quadrate, in questo caso di ordine 2, con determinante diverso da 0. Questa è A e questa è la matrice B. Qual è il periodo di A? A è un elemento di questo gruppo, quindi possiamo trovarne il periodo. Intanto dovrei verificare che A e B appartengono effettivamente a GL2, basta calcolare il determinante. Vediamo per scontata questa cosa, vediamo cosa succede se io faccio A per A. Qual è lo scopo? che se A per A è uguale all'identità, il periodo della matrice è 2. Quindi prendiamo A per A, vuol dire fare 0 1 I 0 per 0 1 I 0, prodotto righe per colonne. Vado veloce sui passaggi, questo ci dà I 0 0 I, non è la matrice identità, quindi il periodo di A è diverso da 2. Si tratta di andare avanti facendo A alla terza, A alla quarta, eccetera eccetera. Si ottiene che A alla 8 è uguale all'identità, perché ho ragionato con A alla 8? Perché io qui ho A alla seconda, quindi se facessi A alla seconda per A alla seconda avrei A alla quarta e se facessi poi A alla quarta per A alla seconda avrei A all'ottava e mi renderei conto che questa viene la matrice identità. Quello che posso dire in generale quando io ottengo questa cosa è che il periodo della matrice A divide 8, quindi il periodo di sicuro appartiene all'insieme costituito da 2, 4 e 8. Ma non è 2, se si fanno i conti si vede che non è 4, si ottiene che è 8. Bisogna ricordare che il periodo è il minimo numero, chiamiamolo Z, tale per cui A alla Z è uguale all'identità. Questo per dire che una volta che ho trovato l'identità con ad esempio A all'ottava dopo aver provato i casi precedenti non devo andare oltre. Vediamo cosa succede con B. Se faccio B alla seconda sto facendo B per B, quindi meno 1, 0, 0, meno 1, meno 1, 0, 0, meno 1, si vede abbastanza facilmente che questo ci dà proprio 1, 0, 0, 1, il che vuol dire che il periodo di B è proprio 2 perché B per B ci dà l'identità, quindi B alla seconda è uguale all'identità, il periodo di B è 2. E ora proviamo a calcolare il periodo di questa permutazione. Il procedimento è sempre quello di andare a fare le potenze di questa permutazione, ricordando che l'operazione è quella di composizione, quindi fare il quadrato di sigma vuol dire fare sigma per sigma ed essendo una funzione stiamo facendo la composizione di sigma con se stessa. Quindi che cosa succede? Uno va in due e poi due va in tre. Quindi leggiamolo in questo modo. Uno viene portato in tre. Faccio direttamente la composizione senza fare i due passaggi. Lo vedo direttamente da qui. Due va in tre, poi tre cosa fa? Va in quattro. Tre va in quattro e quattro va in sei. Quattro va in sei, sei va in uno, cinque resta in cinque, sei va in uno e uno va in due. Noto che questa non è la permutazione identità. E si va avanti, si fa sigma alla terza. Sto facendo questi passaggi per vedere come si fa rapidamente questo tipo di operazione. Fare sigma alla terza vuol dire comporre sigma con sigma alla seconda. E allora io posso vederla in questo modo. Faccio uno che va in due e poi due va in quattro. Quindi uno va in quattro. Posso farlo, tanto per le composizioni vale la proprietà associativa. Due va in tre e tre va in sei. Tre va in quattro, quattro va in uno. Quattro va in sei, sei va in due. Cinque va in cinque e questo è fissato. Sei va in uno, uno va in tre. E anche in questo caso non ho l'identità. Proseguendo, sigma alla quarta vuol dire fare sigma alla seconda composto sigma alla seconda. Si otterrà che sigma alla quinta è l'identità. Infatti sigma alla quinta vuol dire fare sigma alla terza composto sigma alla seconda. Quindi uno va in tre, tre va in uno. Due va in quattro, quattro va in due. Tre va in sei, sei va in tre. Quattro va in uno, uno va in quattro. Cinque era già fissato dall'inizio. Sei va in due, due va in sei. Ed ecco che effettivamente ho ottenuto l'identità. Questo cosa vuol dire? Che il periodo di sigma è uguale a cinque perché sigma alla quinta mi dà l'identità. Vediamo qualcosa sulle classi laterali. Consideriamo come gruppo il gruppo simmetrico S3 e prendiamo come H il sottogruppo generato da una trasposizione e nello specifico dalla trasposizione 1,2 che potremmo anche chiamare tau. Proviamo a scrivere le classi laterali. Iniziamo con le classi laterali destre. Le classi laterali destre sono H, che posso anche scrivere come H composto l'identità. Questo contiene l'identità e contiene tau, cioè l'elemento 1,2, questa trasposizione. Poi farò H1,3. H composto 1,3. Questa è una composizione, quindi io faccio prima 1,3 e poi l'identità e ovviamente ottengo 1,3. Poi faccio agire questa trasposizione e poi 1,2. Vuol dire che devo fare 1,2 per 1,3. E qui cosa succede? Agisce prima questa, quindi manda 1 in 3 e 3 in 1 e 2 resta così com'è. Poi agisce la trasposizione 1,2 che prende 1, lo manda in 2, prende 2, lo manda in 1 e lascia il 3 così com'è. E allora cosa ho ottenuto da qui? Che 1 è andato in 3, 3 è andato in 2 e 2 va in 1 chiudendo il ciclo. Questo è il modo di ragionare. Poi farò H2,3 come in precedenza agisce 2,3. Composto l'identità quindi abbiamo 2,3 e poi qui avremo invece, lo scrivo direttamente, 1,2,3. Devo fare 1,2,2,3 e facendo come abbiamo fatto in precedenza otteniamo questo risultato. Questo in effetti lo possiamo scrivere come H1,3,2. Se lavoriamo con le classi sinistre abbiamo nuovamente H, se lo scrivo direttamente così abbiamo 1 per H, poi abbiamo 1,3 H e facendo i conti ci verrà 1,2,3 H, poi avremo 2,3 H che ci darà questa volta 1,3,2 H e osserviamo che le classi laterali sinistre sono diverse dalle classi laterali destre. Questi due oggetti sono diversi quindi in generale le classi laterali destre e sinistre non coincidono ma hanno la stessa cardinalità. Bene questo breve video termina qui spero vi sia stato comunque utile io vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao